Sì, ma anche qua voglio ringraziare l'impresa, è stato un lavoro fatto in 24 ore, anche qui la città ha vinto su qualche criminale, lo Stato ha vinto sui poteri criminali. La battaglia è lunga, è sempre tra bene e male, però mi sembra che il bene stia avanzando molto nella nostra città. Adesso dobbiamo convincere soprattutto i giovanissimi a non scegliere mai la strada del crimine, perché a Napoli le alternative ci sono e sono tante, al centro come nelle periferie.